benvenuti in un'altra puntata di javascript in pillole una breve serie in cui affrontiamo alcuni argomenti che possono essere fondamentali per approcciarsi all'utilizzo di react e aiutarci a comprendere meglio le dinamiche e il funzionamento la lezione di oggi è dedicata ai metodi ma e filter che sono due metodi che possono essere applicati agli array il primo ma ci permette di iterare per intero un array passando ognuno degli elementi che lo compongono e ritornarci un nuovo array composto da tutti gli elementi del precedente array al quale magari abbiamo apportato alcune modifiche mentre filter ci permette di porre una condizione o un predicato e attraversare tutto l'array ritornando solo quegli elementi che soddisfano la condizione da noi posta di tutti coloro per cui quella condizione è valida e risponde come true in questo momento ci troviamo ad avere semplicemente un array chiamato arria array iniziale che contiene quello che è una serie di elementi noi di una quantità e il nome la prima cosa che andremo a fare sarà quella di aumentare quello che è la quantità di questo elemento tenendo presente che ci troviamo all'interno di un array di oggetti facciamo una cosa furba ci consologhiamo il nostro array iniziale così lo abbiamo qua sulla destra e lo possiamo tenere d'occhio e non ci spostiamo verso il basso quindi abbiamo bisogno di iterare il nostro array utilizzeremo e ritornare nuovo array con il valore aggiornato per fare questo utilizzeremo il metodo ma quindi diremo che questa funzione che aumenta utile è uguale a un arrow function che prende come parametro quello che è un id che noi utilizzeremo per individuare quello che è il prodotto che viene passato dopodiché il nostro scopo sarà quello di ritornare un nuovo array a partire da array iniziale dot map e map è un metodo che accetta una callback function che ci permette di avere tre parametri il primo corrisponderà sempre al valore che stiamo iterando il secondo sarà invece l'index la posizione alla quale ci troveremo mentre l'ultimo sarà sempre il nostro intero array che stiamo attraversando se ne andassimo a console dot logare tutta la baracca che massimo aumenta qt e di questo siamo momentaneamente uno importa vedete che noi otteniamo come prima cosa l'elemento che andiamo che stiamo attraversando la sua posizione all'interno dell'array e l'intero array e così via fino all'ultimo a noi quello che interessa sinceramente in questo momento è solo è unicamente il parametro item quindi il singolo elemento che noi stiamo attraversando andiamo a salvare così ci troviamo nella condizione precedente quello che è il nostro scopo è quello di rito di individuare innanzitutto quello che è l'elemento che corrisponde alla id che mi passeremo e li passeremo numero 5 così abbiamo sott'occhio e una volta individuato modificare quello che è il suo valore e aumentarlo di uno una cosa molto importante da tenere a mente e che il metodo ma deve sempre ritornare almeno una volta al suo interno per ogni condizione può anche non ritornare per determinate condizioni ma è sempre buona trassi farlo ritornare perché deve riformare l'array precedente quindi ritornare ogni volta un elemento questo è molto importante ma per soddisfare la nostra la nostra consegna quello che deve fare come prima cosa è di dichiarare una variabile new item e poi porre in essere un if statement e chiedere se item dot id sia uguale alle id che non passiamo qualora questa condizione fosse soddisfatta allora new item sarà uguale al nostro item con lo spread operator che vi ricordo che passa singolarmente fa una copia di tutte queste proprietà ok una ad una in questo momento in item è uguale ad item al quale noi andiamo a a modificare la proprietà acuti dicendo che tutti diventa item dot qt più in uno colore invece questa condizione non fosse soddisfatta allora andremo dire che new item è uguale semplicemente ad item e alla fine ritorneremo quello che è il valore di new item andiamo adesso a console dot logare il nostro qualsiasi modo descritto aumenta qt passandoli come array 5 e vediamo che cosa otteniamo otteniamo un nuovo array in cui il valore lasagna lasagna anzi a una quantità pari a 2 ok mentre il nostro primo array ovviamente non è stato modificato questa cosa molto importante andiamo con sollogarlo di nuovo anzi facciamo il gioco che copio questo e lo metto qua sotto e come vedete non è stato modificato nonostante lo abbiamo attraversato perché il map method ritorna un array totalmente nuovo ora commentiamo questo console log e andiamo a lavorare con quello che è il filter method la differenza tra il map method e il filter method e che filtra appunto ci pone una condizione di dover definire quella che è una condizione attraverserà tutto l'array e tutti quegli elementi che risponderanno come true a quelle condizioni verranno ritornati quindi se io avessi consta filtra pari quindi ritornare solo quelli che sono i numeri pari questa funzione accetterà un bell'array e quello che farà questa nostra funzione sarà quello di ritornare l'array che noi li passeremo dot filter e filter così come il map method accetta una call back function che prende come parametri nuovo item che sono nomi chiedo io potete chiamarli come volete spesso li troverete così il index ci ritorna la posizione a quale si trova l'elemento che stiamo iterando e di nuovo come ultimo parametro quello che è l'intero array che stiamo iterando ma a noi interessa nuovamente solo il primo parametro in questo caso item e dopodiché andiamo a definire la condizione che deve essere rispettata per far sì che il nostro valore venga ritornato noi vogliamo ottenere solo i numeri pari diremo che item dot qt percentuale 2 che restituisce il modulo ovvero il resto risultante dalla divisione diviso il numero che si dà dopo la percentuale allora questo risultato fosse 0 vuol dire che non c'è nessun resto e se dividiamo in qualsiasi numero diviso 2 e non c'è questo vuol dire che il numero è pari almeno per quanto riguarda i numeri interi quindi in questo caso l'uscita andrà a tutti quelli punti che hanno una quantità pari andiamo a console dot logare il nostro filtra pari a cui passiamo come array iniziale salviamo e otteniamo un array di due elementi che contiene casualmente 24 che hanno rispettivamente una quantità di due e una quantità di quattro questi sono il map e il filter metodo utilizzati tantissimo all'interno soprattutto tutte quelle scremate in cui bisogna eliminare quello che è un elemento presente sull'interfaccia o come in questo caso per aumentare la quantità di elementi presenti magari all'interno di un carrello no la quantità di elementi che ci sono dentro di un carrello può tranquillamente essere rappresentata ovviamente in maniera più avanzata però il modello generale è assolutamente questo